Ciao e benvenuti! Quindi oggi stiamo a vedere questo lavoro è un BGP BASIC quindi questo lavoro non è complicato in realtà è BASIC ma ci dà una molto buona opportunità per imparare quindi prima di tutto vediamo qui qui sul basso abbiamo la guida di lab quindi basicamente vedete come potete vedere quindi abbiamo il requisito comprendendo SPF e BGP rotazione obiettivo lab task eccetera eccetera e ovviamente topologia e la configurazione quindi ora abbiamo magari pulire per i vediamo chi 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 un secondo ok quindi cosa ho fatto ovviamente per me che tutti possono fare come preferito ho scoperto questo ho scoperto come PDF e l'altro monitor ha il documento aperto quindi posso ovviamente controllare eventualmente anche la configurazione qui vedete questo è il mio PDF poi andiamo sull'altra screen sul mio primo monitor e cosa abbiamo qui in realtà? vediamo abbiamo l'objetto questo questo lab visse una configurazione basica con BGP e BGP connect routi tra AS 20 a 30 quindi task per prima bisogna impostare l'addressa tra le rotele impostare OSPF in ogni ruta per ogni ruta e ovviamente per ogni AS in questo caso impostare un ruta BGP che scelta la IP privata e adverte la IP pubblica e in fine controllare la configurazione e ovviamente puoi seguire la configurazione ma le cose belle sono prima di tutto il mio suggerimento è di cercare di impostare il lab almeno le interfacette IP e OSPF senza controllare la guida di lab quindi il pdf in questo caso non importa quanto riguarda per impostare tutto ma è molto buono per imparare questo è fantastico poi quando hai completato la configurazione il lab non funziona non funziona quindi praticamente c'è qualche errore in questo lab nella configurazione e questo è una buona opportunità di vedere come e cosa non funziona quindi come puoi riuscire prima cosa che non funziona e dopo come puoi riuscire potrebbe costruire probabilmente un minuto un'ora una settimana non importa le cose importanti sono imparare come cosa vuoi come provare e riuscire i problemi quindi puoi imparare questo lab appena ovviamente pinet store ottenere il lab poi è molto semplice, basta andare qui, download labs, poi andare a store, poi su la lefta BGP, poi qui, ora appena la foto qui, basic BGP, quindi ovviamente, come di solito, clicchiamo sulla foto, e ok, in mio caso l'ho eliminato, perché è già presente nel mio Pinet Lab, nel mio Pinet environment, ma troverai due versioni, version 1 e version 2, questa è la version 2, poi vedete qui, se non puoi impingare la interfaccia di loopback, cercare di usare, eccetera, eccetera, sono altre cose, che puoi controllare, se vuoi, ma provate di usare, è una molto buona opportunità di imparare. Grazie per la visione.